Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo video di Clash Royale dal vostro Sir Piedezekin Pensavate che vi lasciassi senza Clash Royale oggi eh? Invece no! Sono un pochino risalito a 5230 corone, però in realtà sono sceso e poi risalito Avevo cambiato un po' il deck, ho buttato la scintilla perché purtroppo è di livello 12 Quindi è ancora troppo bassa e ho messo l'oro, ho perso, ho appesantito un po' più il mazzo Però vediamo adesso queste tre battaglie e cosa ci fa fare Intanto saluto Francesco del Debbio che mi ha chiesto di essere salutato nel video precedente Quindi lo salutiamo in questo video e anche voi ragazzi se volete essere salutati Basta che ve lo scriviate in un commento e io cercherò sempre di salutare tutti Se me lo scordo ricordatemelo che io poi me lo segno e vi saluto tutti Quindi ciao Francesco, grazie mille per esserti iscritto al mio canale Spero che i video ti piacciano E spero che piacciano a tutti voi i video che porto Il canale migliorerà, crescerà, spero Lui ora ha buttato questo e io devo andarci di questo perché Non penso che abbia molte cose davanti Eh quella cavolo, quanto elisir ha questo? Perché anche quella costa, anche la specchio Voglio dire Ne ha sprecato di elisir dovrebbe essere Eh no niente Però l'ha messo malissimo quel cannone E noi ci andiamo di Di Valkyria Poi ci andiamo di questo A parte che la Valkyria da sola È già buona Allora aspettiamo un secondo e poi partiamo Di Cattiveria Aspettiamo cosa fa lui Lui ci va di questo e noi ci andiamo di questi Proprio alla grande E poi congeliamo tutto qua Gli buttiamo giù Ma come fa a tirare la razzo? Ha tirato quello che costa già tantissimo Più la razzo Come fa? Ora ci mette lo scheletrino Gli scheletrini E noi ci andiamo di questo Che ci confonde quello Ci mettiamo questo e questo qua No? Solo uno Dai fallo fuori subito Bravo grazie Ci andiamo subito di Valkyria qua Vorrei fare le tre corone ragazzi Ma lui sta buttando troppa roba Secondo me eh Veramente troppa Eh Cioè è veramente troppa questa roba Ancora? E allora c'è in furio proprio Cioè Gli voglio spaccare tutte Quelle lì Cioè lui veramente Tira tantissima roba Però Penso che non Non possa niente Adesso gli congelo tutto Ci vado di furia Dai non può niente Non può niente Contro di me È andata Questa è andata Però lui veramente Tirava roba Tantissima roba Dietro l'altra Solo 27 Corone Poche Speravamo un 30 31 Vediamo se riusciamo a andare Sopra i 5.300 Un'altra volta Ma Non lo so Non lo so Perché Clash Royale A volte ti fa fare 5-6 vittorie E poi 15 sconfitte di fila Eh Dovrei fare E no Con 3 vittorie Non ci arriva 5.300 Con 3 vittorie di fila Però 3 vittorie di fila Mi è successo una volta sola Da quando porto il video Su Youtube Quindi Non mi ricordo se ho salutato Francesco del Debbio Non me lo ricordo Quindi Lo risalutiamo Francesco Grazie mille Sempre per l'iscrizione Al canale Mi raccomando Condividi i video Con i tuoi amici Facciamo crescere il canale Anche voi ragazzi Se vi piacciono i video Che porto Condivideteli Con i vostri amici Attivate la campanellina Perché io posto a qualsiasi ora Non ho Non ho orari Però quella torre lì Veramente Sto aspettando Sto caricando l'isir Perché lui veramente Ha tirato tanta roba Quindi partiamo di qua Con questa Forse un po' troppo indietro Lui parte di razzo Io ci vado di curatrice qua davanti Subito di questo Secondo me si è arreso Non Non lo so No Non si è arreso Perché continua a tirare roba Arriva questo Ma c'è dietro la valchiria Su valchiria Fai qualcosa Su Fatti valere Brava Brava Andiamo subito di qua E lui si arrabbia Però C'ha poco da arrabbiarsi Perché Se riuscissi a congelare tutto No Non ho congelato L'unica cosa Che devo congelare Però attenzione Perché lui è uscito Qua dietro Con il minatore Era il minatore Quello E non me ne ero neanche accorto io Siamo avanti Però ancora una volta Secondo me Loro riescono a tirare più roba Di quanto ne riesco a tirare io Sì che io ho un mazzo pesante Un altro Un altro di quelli Di razzi Ma i razzi costano parecchio Io infurio tutto Cerco di tirare giù Un po' di roba Qua Qua ci metto questo Ci metto questi Il tronco sua sprecata La mia La mia torre va E mi spacca tutto Comunque La sua razza È veramente Cattiva Non vorrei rischiare Di perdermela Così questa Adesso io Mando un po' di roba Di qui Metto La congelo qua Ci metto sotto Questo Se riusciamo a far subito così E se Riuscisse ad arrivare Non ci arriva Dai Qualcuno deve arrivare Laggiù A torre Su Per piacere Qualcuno a torre Ci deve arrivare Per forza Cioè Non è Non è credibile Che tra tutti Nessuno arrivi a torre Dai Su Dai dai Abbiamo vinto Abbiamo vinto Eh Ridi Ridi Non è stato Facile Questo Perché mi arrivava Roba da l'alessa A sinistra E Ho temuto Ho temuto Ritiriamo il premio maestria Vediamo cosa ci dà Ah La curatrice Che va a livello 7 Non male 300 gemme Non male Io me le sto Conservando tutte Dall'inizio Ne ho consumate Pochissime Infatti ne ho 4300 Non so Se le devo usare No Oh se vinco la prossima Vado Sì Supero Eh c'è Ciccio Gamer Che va Va live Di Fortnite Fortnite è un gioco Che io non riesco A giocare Purtroppo Vorrei portarlo Comunque ma Ora io guarderò La sua live Perché Per imparare Più che altro Ma non Attenzione Qua lui fa Una Bella mossa Io gliela Spacco così Perché Quello che ha tirato Prima non mi è piaciuto Il Quindi Andiamo subito Sotto torre Penso che non gli arrivi Neanche Eh guarda Per poco Per poco Confondiamo Quei due Che mi Non si confondono Quanto c'è stato A scendere Ah Si era un po' Buggato Il tutto Andiamo di là Con questa Con Mini Pecca Se riesce ad arrivare A dare un colpo È finito No Non ci è riuscito Non fa niente Non fa niente Perché Aspettiamo Lui dice Buona fortuna Perché Che mette Che mette Questo Io ci metto Questo davanti Qua Forse Sbagliando Però poi Metto La Valkyria Qua E poi Potenzio Se la fanno fuori Dai Un colpo Solo Dai Serve Dai Ce l'abbiamo Fatta ragazzi 3 su 3 Anche questa Volta La seconda Volta Che mi riesce Lui ci dice Bella giocata 31 corone Andiamo a 5.308 5.310 Se ti svegli Clash Royale Sappiamo a quante corone Arriviamo 5.318 Non 8 Buono Buono Va bene Ragazzi Per questo video È tutto Io vi ringrazio Per averlo visto Fino in fondo Mi raccomando Iscrivetevi al canale Come sempre Attivate la campanellina Condividete il video Con i vostri amici Se vi è piaciuto Se volete far conoscere Il canale Far crescere Questo canale Se volete essere salutati Iscrivetemelo sotto Nei commenti Io saluterò Tutti E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Ragazzi Ciao